Vivo! Tutti dentro. Tutti dentro, tutti dentro. Vediamo, vediamo. Tutti dentro. Ci sono portiere dietro. Tutti avanti, si rischia. Siamo arrivati a due minuti, credo, di recupero. Può essere, ci può stare. Sono tutti dentro. Mamma che gol, mamma che gol! Mamma che roba! Che gran gol! Si ammonisce per niente. Adesso l'ammunisce. Ma non usci. Non è sapevo. Si è buttato. Doppiezzi. Ma che gol! Che gol! Che pazzo! Che cosa ti sono ammazzato. Comunico. E' un bel Bravo! Ma Activationino. Clic 2 a 2, dai! Cioè, non ha venuto per nulla che ha fatto molire la fine. Che cose qua giù sì, eh! Bene, 2 a 2, mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! 2 a 2, dai! Per partite 4 punti, potevamo averne 6 e 7. La squadra c'è! No, i primi 3 minuti sono quelli! Simón, fatta!